5. La Terra è molto molto piccola o il Sole è molto molto vicino? Il calcolo della circolferenza terrestre di Aristotele si ricava dalla luce del Sole che cade perpendicolare che dovrebbe essere ad una distanza di circa 150 milioni di chilometri, ma chiunque può uscire in una giornata di Sole e vedere al di sotto delle nuve che la luce non è parallela. I raggi scendono ad angolo indicando che il Sole è in realtà molto vicino. La spiegazione ufficiale è che l'atmosfera terrestre rinfrange la luce e questo è il motivo per cui la luce si diverge. Se la luce del Sole è sempre rifratta, significa che i calcoli fatti da Aristotele sono stati fatti con la luce rifratta. Pertanto questo significa che sono sbagliati e la Terra è molto molto più piccola.